Sono Graziano Raffaele, ex dipendente della ditta in genere Franco di Trino, inconcordato e con la filea stiamo cercando di recuperare tutti quanti i nostri TFR di 50 dipendenti. Per quanto concerne la vicenda Renzi di questi giorni ha perso un'occasione buona per stare zeta. Mi sembra di rivedere la Thatcher a metà anni 80, distruggendo tutto il sistema sociale.